salve terrestri benvenuti in questo nuovo video oggi non parlerò di informatica quindi niente sigla volevo parlare di un video che ho visto un paio di giorni fa su facebook dove un ragazzo con una lamborghini bianca arriva su delle strade in america e va a rimorchiare delle ragazze senza parlare senza dire assolutamente nulla e ho letto commenti atroci insulti peggio cose e secondo me dobbiamo andare analizzare la cosa a livello di antropologia allora cosa sono da cosa è attirato l'uomo l'uomo è tirato dalla bellezza dalla bellezza fisica dato che l'uomo comunque può procreare infinitamente è interessato ad avere più figli possibili a livello inconscio naturalmente e quindi è attirato ad avere più rapporti possibili con partner diverse e comunque è attirato come detto dalla bellezza la donna invece dato che può procreare in modo finito non può permettersi di avere partner tra virgolette sbagliati e quindi cerca comunque sempre dei partner che siano in grado di sostenere a livello economico a lei e alla futura prole quindi che succede che una donna sicuramente è attirata da una persona che ha soldi e diciamo ragazzi c'è poco da fare a livello inconscio sto parlando sempre comunque è attirata dalla persona che in grado di garantirgli una vita agiata una vita semplice e dato che comunque se andiamo non so parliamo dell'epoca primitiva la donna che cosa succedeva che era inabile tra virgolette o comunque aveva un handicap non da poco per nove mesi e quindi diventava più lenta quindi per comunque per il procacciamento del cibo diventava un problema quindi era un bersaglio più semplice era necessario che l'uomo in cui stava fosse fosse in grado di sostenerla e garantisse tutto quello che aveva necessità se invece se avesse fatto una scelta sbagliata avrebbe rischiato la vita e quindi questo meccanismo evolutivo ha permesso che a livello inconscio le donne cercassero comunque sempre delle persone che fossero in grado di sostenerle economicamente al tempo con le pellicce e i cibi e conigli spellati adesso con i soldi e le lamborghini uno dovrebbe anche pensare e dato che come uomo dico ma se fosse stato il contrario se fosse stata non so una macchina normale normale che normalissima con dentro una grande attrice una bellissima ragazza che vi avesse fatto segno di entrare senza parlare voi cosa avreste fatto sareste entrati o no perché se lo fa l'uomo è un grande è un playboy è un latin lover se lo fa la donna è una puttana secondo me questi sono interrogativi che bisognerebbe porsi bisognerebbe un attimino cercare di togliere questo stereotipo insomma no e permettere a tutti di esprimersi come si vuole senza dover giudicare perché poi spesso e volentieri l'uomo l'uomo che giudica male una donna che comporta che si comporta in quel modo è il primo che va a cercare quelle donne di quel tipo quindi non è che siete meglio di loro non che ci sia un meglio un peggio nel senso ognuno vive la propria vita come vuole quindi prima di andare a giudicare una donna perché si comporta in un certo modo se fosse stata la bella donna a rimorchiare l'uomo bene ragazzi questo è un video in cui ho cercato un attimino di dare parola le mie idee anche se spesso e volentieri non mi viene bene comunque spero che abbiate capito il mio messaggio di fondo insomma di evitare di giudicare nel senso che comunque come ho detto spesso e volentieri l'uomo e le donne stesse giudicano male le donne altre donne per certi tipi di comportamento ma loro lo fanno e non sono giudicati perché sono uomini magari rifletteteci due volte prima di giudicare magari ho fatto questo video perché avevo detto che avrei fatto video non di informatica quindi ho preso la palla al balzo e ho iniziato con questo video saluti a tutti al prossimo video